Caltanissetta si accinge a vedere presto più attivi diversi cantieri di lavori. In questa settimana infatti saranno 5 le gare di appalto che si effettueranno nei prossimi giorni. La manutenzione straordinaria e straordinaria delle strade interne, la manutenzione delle strade interne cittadine, la manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade extra cittadine e poi ancora la sistemazione di alcuni passi che non sono adeguati a quelle che sono le norme per i disabili e quindi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E poi ancora c'è l'efficientamento energetico della Scuola Verga che è un intervento molto importante che consentirà alla Scuola Verga di fare un passo molto in avanti nel campo dell'efficientamento energetico. e poi come non dimenticare le rotatorie di via Catania e via Leone XIII che anche queste andranno in appalto appunto in questo periodo. Insomma c'è tanta carne al fuoco e probabilmente miglioreremo anche la qualità della vita della città grazie a questi interventi. Le gare in questione riguarderanno i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extraurbane per l'anno 2022 ma anche i lavori di demolizione messa in sicurezza degli immobili di via Vancheri 2 e via Saccara 16 anche riguardo alle aree circostanti. Si interverrà inoltre sulle due rotatorie di via Catania e via Leone XIII attese da tempo e in questa tranche di interventi ci saranno anche lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade cittadine.